Minna-san, konnichiwa e bentornati sul mio canale. Dopo una lunga assenza causata da problemi con il mio PC, come vi avevo spiegato per bene qualche tempo fa su Instagram, o a tal proposito, se ancora non mi avete seguito su Instagram, beh, fatelo subito per restare aggiornati con tutto ciò che circonda la mia presenza qua su YouTube. Comunque, tornando a noi, eccomi qua, fresco come una rosa e con un nuovo PC per tornare a parlare di Stardom con voi e in particolar modo di ciò che è successo in quel di Namba Grand Fight 2024. Oggi però lasceremo spazio ai due match più importanti della Kermes. Lasceremo spazio ai due match titolati riguardanti la White Belt e la Red Belt. Lasceremo spazio a Natsupoi vs. Azuki e Tamnakano vs. Maika. Prima però di iniziare vi chiedo cortesemente di lasciare un like, di iscrivervi al canale, attivando anche la campanella per restare sempre aggiornati con gli ultimi contenuti. Vi ricordo che tutto questo per voi è completamente gratuito, ma per me e per la crescita del mio canale è di vitale importanza. Detto questo direi di passare immediatamente al match valevole per il Wonder of Stardom Championship, battaglia che ha visto protagoniste Natsupoi e Azuki. Un match davvero molto sentito da entrambe le lottatrici, che qualche ora prima avevano ricevuto la benedizione di Kairi, ora sotto contratto con la WWE, che aveva augurato buona fortuna ad entrambe le contendenti. Affermando che avrebbe seguito la battaglia tra queste due splendide gladiatrici. E in effetti la battaglia è stata davvero molto buona, e se perché sia Natsupoi che Azuki erano arrivate al match con tutto l'intento di confermarsi campionesse nel caso di Natsupoi, o di scioccare il mondo e di conquistare la tanto agognata cintura nel caso di Azuki. Sì, perché il sogno di Azuki era questo, conquistare finalmente la White Belt, una rincorsa che ormai dura da parecchi anni, una rincorsa che purtroppo per Azuki non è andata a buon fine, neanche questa volta. Sfortunatamente la lottatrice di Stars ha dovuto arrendersi allo strapotere di Natsupoi, che arrivava al match forse con più consapevolezza nei propri mezzi, forse con una grinta in più. Sì, perché se è pur vero che Azuki aveva voglia di vincere il titolo per coronare il suo sogno, beh, Natsupoi non era da meno. La lottatrice di Cosmic Angels, al contrario di Azuki, è riuscita a coronare il sogno di diventare Wonder of Stardom Champion, poco più di un mese fa, quando riuscì a sconfiggere Saori Anu. Da quel momento in poi, Natsupoi si è ripromessa di fare tutto ciò che è in suo potere per restare campionessa il più a lungo possibile, perché ora che ha finalmente potuto agguantare la White Belt, non è di certo intenzionata a lasciare quella cintura così tanto facilmente. Il risultato dunque di ciò che è andato in scena Namba Grand Fight tra Natsupoi e Azuki è cosa buona e giusta. Non poteva esserci altro risultato, non poteva e non doveva finire in altro modo. Certo, dispiace ovviamente che Azuki non sia riuscita per l'ennesima volta a realizzare il sogno di una vita, ciò per cui ha combattuto e per cui sta combattendo tuttora duramente, ma sono sicuro che altre opportunità le si presenteranno presto sulla soglia di casa e busseranno alla sua porta. Dovrà soltanto aspettare il momento giusto. Momento che ora è tutto dalla parte di Natsupoi, giustamente aggiungo io. Una Natsupoi che mette all'archivio la sua prima difesa, con sguardo fisso verso la sua prossima avversaria, che potrebbe essere Tekla, che alla fine del match ha raggiunto Natsupoi sul ring e invece di sfidarla l'ha accolta con un sorriso, congratulandosi con la campionessa in carica per essere rimasta tale, lasciandole, come ricordo, un towel di EIT, che significa tutto ciò? Tekla vuole per caso portare Natsupoi dalla parte di EIT? O è soltanto un piano diabolico e scugitato per soffiare la white belt a Natsupoi? Immagino ne sapremo di più col passare del tempo. Intanto a noi non resta che passare al main event del pay-per-view, un main event che vedeva in azione Tam Nakano pronta a difendere la sua red belt contro Maika. La co-leader di EXV arrivava a questa sfida forte del fatto di aver vinto il 5-star Grand Prix da imbattuta, e sì perché nessuna mai nella storia era riuscita in tale impresa. Fatto sta che la battaglia tra Tam Nakano e Maika, che ci ha regato tanti momenti esaltanti, ma anche la paura di scoprire chi sarebbe stata la vincitrice. Da un lato avevamo Maika, fresca vincitrice appunto del 5-star Grand Prix 2024, una Maika che aveva da poco perso la red belt contro Natsuko Tora, dopo il tradimento perpetuato da Saia Kamitani ai danni della co-leader di EXV. Tutto ciò ha portato Maika a vendicarsi di tale affronto proprio nella finale del 5-star Grand Prix, dove riuscì nell'impresa di battere Saia e Kamitani e di aggiudicarsi il torneo. Dall'altro lato invece avevamo Tamen Nakano, una Tamen Nakano che era da poco diventata campionessa, battendo 15 giorni prima proprio quella Natsuko Tora che aveva privato Maika della red belt. Una Tamen Nakano dunque che aveva sofferto sonore sconfitte durante il torneo più importante dell'anno, siccome non era riuscita neppure a conquistare una vittoria. Questo però invece di demoralizzare Tamen Nakano aveva infuso forza nella mente della leader di Cosmic Angel che seppe dunque rialzarsi in, men che non si dica da questi pietosi risultati per conquistare il World of Stardom Championship e provare di nuovo a tutti che Tamen Nakano è ormai da considerare un vero e proprio pilastro della Stardom. Anche in questo caso dunque il match a mio avviso non ha deluso le aspettative e si è concluso nei migliori dei modi. Con il regno di Tamen Nakano ormai avviato a riprendere da dove si era interrotto quasi un anno fa per colpa di un brutto infortunio che costò il titolo a Tam che dovette renderlo vacante. Una vittoria importante per la Nakano dunque contro un'avversaria altrettanto importante come Maika. Una vittoria che fa guardare verso il futuro Tamen Nakano che ora è pronta a difendere il suo titolo contro Suzu Suzuki. Un'avversaria con la quale la leader di Cosmic Angels ha un conto in sospeso un match che doveva vedere la luce lo scorso anno ma che era stato cancellato proprio per colpa dell'infortunio di cui vi ho accennato poc'anzi. Dunque tutti i tasselli sembrano essere tornati al posto giusto e sembra che i regni di Tamen Nakano e di Natsu poi siano soltanto all'inizio con le due lottatrici pronti a scrivere pagine importanti del bestseller chiamato Stardom. Voi che dite? Contenti dei risultati? O avreste preferito delle nuove campionesse? Potete ovviamente farmi conoscere la vostra opinione qua sotto nei commenti. In tal caso vi ricordo anche che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde progetto tutto dedicato al wrestling femminile mondiale. Sul sito web di Donne tra le corde così come sui canali social potete sempre rimanere aggiornati con tutto ciò che gira intorno alle vostre atlete preferite. Per saperne di più vi rimando al link che trovate in descrizione. Ahimè siamo arrivati anche oggi al termine del video dunque non mi resta che salutarvi e ringraziarvi ancora una volta per tutto l'affetto che mi avete dimostrato in particolar modo in questi giorni difficili di mia assenza causa PC. Grazie di cuore a tutti voi. Vi ricordo che se volete continuare a supportare me e il mio canale e non siete ancora iscritti al canale appunto beh potete iscrivermi immediatamente è completamente gratuito. See you next time! Bye poi! Ciao! 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 Grazie a tutti